Musica Vi aspettiamo giorno 8, 9 e 10 novembre all'undicesima Sagra della Castagna di Cotronei, la tradizionale Sagra della Castagna compie 11 anni, l'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Circolo Noi Con Voi, ma sono anche altre le associazioni coinvolte nell'evento, come la Proloco di Cotronei, il Gruppo Missionario Mamma e Margherita, l'Unità Alsi, l'Avis, l'Associazione Angolo 12, l'Associazione Mani Senza Frontiere, l'Associazione Diverso da Chi, così come di fondamentale importanza il Patrocino del Comune di Cotronei e dell'UNCEM Calabria. L'iniziativa si svolgerà, come avevo già detto, l'8, il 9 e il 10 novembre. Giorno 8 avremo alle ore 10 il concorso di disegno, canto e poesia presso la Sala delle Conferenze di Cotronei. In onore a San Martino, dalle ore 17, a cura di Terra Mar Calabria, in Pianza della Solidarietà si terrà la degustazione di vini, prodotti calabresi e caldarroste e musica live. Sabato 9 inizierà la sagra alle ore 17, con i giochi tradizionali e la degustazione delle caldarroste, dei crustoli alla castagna, le castagne bollite, eccetera. Giorno 9 inizierà la sagra alle ore 17, con i giochi tradizionali e la degustazione delle caldarroste, dei crustoli alla castagna, delle castagne bollite, menu caldo a base di castagna, panini, birra e vino. Alle 18.30 è musica live con Angela Bianco e Castro Min Quartet, alle 20 si terrà la tantattesa estrazione della riffa. Domenica 10, dalle ore 10, abbiamo il mercatino sul via Vallone delle Pere, inizierà la sagra alle ore 17, con i giochi tradizionali. Alle 17.30 si svolgerà la premazione dei vincitori del concorso di disegno, canto e poesia, degusteremo caldarroste, crustoli alla castagna, castagne bollite, panini, birra e vino. Dalle 18.30 la serata sarà animata dagli 8 più street band. Io sono Angela Bianco e faccio parte del progetto Angela Bianco e Castro Min Quartet. Il nostro è un gruppo di musica etnico-popolare con sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione. Le proprie innovazioni e tradizioni sono il nostro obiettivo. Noi cerchiamo di unire alla nostra passione per la musica popolare una macchina mediatica unica nel suo genere. Io sono la voce e la danzatrice del gruppo. Insieme a me in questa meravigliosa avventura abbiamo Fabio Malomo alla Cassa e Tamburelli, Giuseppe Mazzotto alle percussioni etniche, Carmine Mazzotto a Voce Chitarra e Piero Chiodi all'organetto, la visarmonica e i fiati. E Antonio Abruzzese che è il nostro general manager, che cura il nostro booking e la nostra promozione. Proponiamo uno spettacolo coinvolgente all'insegna del divertimento e della buona musica tradizionale, in un format studiato proprio per le piccole location e alla portata di tutti. Una soluzione richiestissima in questi tempi. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che ci hanno voluto qui questa sera e la nostra agenzia, Giuseppe Pipicelli. Grazie a tutti.